Pare 800 euro, ma chi spacchiusi di mazzuti! Salve ragazzi e benvenuti per un nuovo video. Questa mia intro potrebbe essere estremamente sintetica della situazione a pochi minuti dal video che ha rilasciato Sony per la presentazione della PS5 Pro che, come forse avete potuto intuire, verrà venduta a un incredibile prezzo di 800 euro. 800 euro senza disco e senza stand. Veramente il disco, volendo, lo si può comprare a parte. Ok, ma prima di parlare del prezzo super premium che hanno deciso di utilizzare, Sony Playstation, vediamo le caratteristiche. In realtà, queste caratteristiche della PS5 Pro, che tra parentesi ha anche una data, ops, me l'ho scordato, uscirà l'8 novembre, il 7 novembre, 7 novembre, quindi fra due mesi, praticamente. Fra due mesi, se avete 800 euro e ritenete che siano un buon investimento, in questo momento storico in particolare, per prendere una PS5 Pro potrete comprarla. Cosa vi darà in più una PS5 Pro? Beh, esattamente le cose che erano state riccate da più di un anno. Tutti ricche erano molto precisi. Infatti ci sarà una potenza di rendering maggiore del 45%, così a livello di tecnico, con una memoria del 28% più veloce, del ray tracing migliorato fino a due o tre volte rispetto alla PS5, e un upscaling basato sull'intelligenza artificiale. Quindi ci sarà una sorta di DLSS di NVIDIA, però, proprietario di PlayStation, che viene chiamato PlayStation Spectral Super Resolution, che fondamentalmente farà questo, cioè un DLSS, un upscaler, quindi anche quando il gioco verrà fatto riprodurre con un rendering più basso dei 4K, e poi riappscalato, l'intelligenza artificiale migliorerà l'immagine, rendendola più, diciamo, sharp, più accurata. Quanto è potente questo DLSS, che probabilmente è la cosa più importante di tutte, il ray tracing avanzato vi assicuro che non cambierà praticamente niente, perché comunque non è abbastanza potente come hardware la PS5 o la PS5 Pro, quindi alla fine ci sarà qualche ombra, ray tracing, qualche luce in qualche punto, non cambierà niente. Sulla GPU avrà un pochino di margine di manovra, probabilmente, di reggere qualcosa in più all'interno di frame rate, però quello che farà la differenza, se è buono, sarà l'upscaler, quindi per far raggiungere dei giochi, possibilmente che, appunto, non raggiungiamo i 60 fps anche in performance, a farglielo fare, quindi una stabilità di 60 fps per la modalità performance. Poi ovviamente hanno marketizzato che molti giochi giureranno anche in fidelity attuale di PS5 quasi a 60 fps senza perdere qualità, ma lì dipende ovviamente dei giochi, ottimizzazione e tutto quanto. Per il resto, poco altro. In realtà è stata una presentazione molto marketing e poco tecnica, non così tecnica in realtà. Un riassunto di PS5 e poi le nuove figate di PS5 Pro. Il punto è il prezzo, ok? Il prezzo. 800 euro in Europa, 700 dollari negli Stati Uniti. Ovviamente negli Stati Uniti bisogna aggiungere sempre le tasse, il Watt, che non viene mai espresso nei prezzi americani, perché fondamentalmente gli Stati Uniti sono fatti in un certo modo, ogni Stato degli Stati Uniti ha le sue tasse, e quindi per questo di solito i prezzi americani non sono messi mai con le tasse incluse, ma sono sempre tasse escluse. Quindi più o meno siamo lì, non cambia tantissimo. 700 sterline, che in realtà sono al cambio attuale 830 euro, quindi gli inglesi pagano di più. In yen sono 120.000 yen, tasse incluse. Non so quanto vale lo yen, non l'ho visto adesso. e per noi sono 800 euro. 800 euro per questa Pro, che ha queste caratteristiche che abbiamo detto prima, quindi migliorate e tutto quanto, 2TB di SSD, quindi praticamente il triplo rispetto alla PS5, però non ha neanche il disco, ragazzi. Cioè il disco, e non ha manco lo stand, perché adesso lo stand è questa cosa che costa tipo 30 euro, non la potevamo includere in questo prezzo incredibile. Quindi se volete il disco, non so quanto costa il disco in più, 100 euro, 120 euro, non lo so, qualcosa del genere. Quindi se uno volesse tutti gli accessori, ci avviciniamo quasi 1000 euro, eh? Proprio, praticamente, 950, qualcosa del genere. Wow, wow. La domanda è la stessa che avevo posto ieri in un veloce post, ovvero, ma quanto è utile o quanto è inutile? Esce fra due mesi. Ora, mia opinione, sicuramente fra due mesi questa console non serve assolutamente a niente. Non c'è praticamente nessun gioco sulla PS5 che ne possa beneficiare in maniera significativa, tanto da giustificare una spesa del genere. Sono pochi i giochi, ornestamente, così di rilievo che possono diventare così migliori, che possono avere appunto un upgrade significativo. Non me ne viene in mente quasi nessuno, forse Final Fantasy VII era Bird, che aveva la modalità performance che era inguardabile, di quanto si abbassava di risoluzione, migliorerà forse quello. Ma pochi altri. Wukong adesso, che ha qualche prestazione così, claudicante, può essere un pochino più crisp l'immagine, più chiara, può essere. Ma ragazzi, 800 euro sono veramente tanti. Che a questo punto mi viene in mente, facile ragionamento, non verrà abbassata di prezzo. Ricordatevi che negli ultimi giorni, non so se in Europa, ma da qualche altra parte, il pad, quindi il DualSense, è aumentato di 5 euro. Comunque c'è un trend di aumentare i prezzi dei videogiochi negli ultimi anni, dell'hardware e tutto quanto. Quindi io credo che, rispetto a quello che abbiamo sempre visto, cioè nuova console, o meglio, upgrade, mid-gen, console base si abbassa di prezzo. È così alta la differenza che credo che non si abbasserà di prezzo la PS5, rimarrà così come, anzi, miracolo se rimane ferma, e non sale pure lei. E questo rimane un prodotto incredibilmente di alta fascia, per entusiasta, fondamentalmente. Io non credo che tutti la compreranno, tutti faranno un upgrade, già di per sé non c'è tutto questo motivo di farlo, perché non ci sono questi titoli allucinanti in cui c'è bisogno di una PS5 Pro. A questo prezzo ancora meno. Io ho fatto un video qualche tempo fa con la concomitanza con GTA 6, no? Effettivamente, se fosse uscita l'anno prossimo, la PS5 Pro, e poi GTA 6, effettivamente, se non viene rimandato, 2025, insieme, sarebbe un'ottima combo. Probabilmente proprio quel gioco potrebbe spingere tanti a comprare una Pro, perché sicuramente sarà molto demanding quel gioco, i 60 FPS li vedrà forse col binocolo, forse con una Pro, forse a performance, non lo so, però, insomma, un minimo di giustificazione per chi vuole massime prestazioni potrebbe esserci con GTA 6, perché GTA 6 è GTA 6. Ma con tutto il resto che c'è nel mercato in questo momento, 800 euro sono veramente tantissimi, ma veramente tantissimi. Io credo che ci sarà una sollevazione popolare per quello che può essere, e tutti, tutti criticheranno questo prezzo così alto. è veramente altissimo, 800 euro. Non credo che nessuno avrebbe scommesso così tanto. Forse 7,50, 7,29, 800, senza disco, senza stand, senza un cazzo. Ok, PlayStation, fa la sua scommessa. Vedremo fra due mesi, il 7 novembre, cosa succederà. La mia ipotesi è che non venderà un granché. Non dico che venderà male, perché per esempio negli Stati Uniti secondo me venderà anche bene. Negli Stati Uniti c'è un pietro di soldi, non gli cambia niente. In Europa già la vedo un po' diversa. La vedo un po' diversa. È un prezzo veramente altissimo per un guadagno relativo. Poi, vabbè, usciranno tutte recensioni tecniche, approfondimenti di siti specializzati, digital founder, eccetera, eccetera. Poi si capirà quanto realmente è di peso il miglioramento. Poi dipende dai giochi. Però così, a occhio, rispetto al mercato che c'è in questo momento, mi sembra veramente folle come prezzo. O comunque, volersi mettere e posizionarsi tipo Apple, no? Se la possono comprare solo i super appassionati con i soldi. Va bene. Vedremo cosa succederà. A questo punto la chiudo qui anche perché non c'è molto altro da dire. Anche perché proprio anche le specifiche tecniche erano esattamente quelle liccate da un anno. Quindi tutti quelli che si erano informati già le sapevano praticamente. Non si sapeva il prezzo, non si sapeva la data. Fatemi sapere cosa ne pensate sotto i commenti. Mamma se sono curioso di sapere cosa pensate. Va bene ragazzi, la chiudo qui. Noi ci becchiamo prossimamente per altri video qua, sempre sul gaming. Voi statevi sempre bene. Grazie sempre per aver seguito il video se siete arrivati fino a qua. Ci becchiamo alla prossima. Ciao. Ciao.